E' ancora allarme Bocconichille ad Arezzo. L'ultima segnalazione arriva da indicatore in una zona peraltro particolarmente frequentata vista la presenza di un centro commerciale e di giardini dove giocano anche bambini. La seconda volta perché già a luglio c'era stato un caso di avvelenamento non con i chiodi però era una polpetta avvelenata però in questo caso si è ripetuto quindi c'è qualcuno che purtroppo prosegue nel suo intento e ora siamo venuti qui abbiamo fatto un giro purtroppo non abbiamo trovato niente. Io dico a tutta la popolazione di tenere gli occhi aperti qui in zona indicatore, di tenere i cani al guinzaglio e di non perdere di vista mentre nelle passeggiate. Un cane qui è stato recentemente operato d'urgenza perché rischiava di morire dopo aver ingerito un boccone di questo genere. Sul posto il personale della polizia municipale coadiuvato dalle guardie zoofile ha effettuato un accurato sopra il luogo nell'area dove è stata segnalata la presenza di esche avvelenati. Noi siamo a disposizione, collaboriamo con il comune infatti è stata dopo la richiesta inviata via mail siamo corsi subito sul posto purtroppo non è facile individuare le polpette perché diciamo che in questo caso c'è stato proprio il dolo è evidente.